Bene, ben trovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. TV Radicale dopo due settimane, dopo la bella esperienza del decimo congresso di Chianciano Terme, torna con le sue trasmissioni in diretta. Oggi, domenica 6 novembre 2011, cominciano, ora che sono le 16 in punto, le nostre trasmissioni in diretta. E le cominciamo, senz'altro, con l'appuntamento ormai consueto di TV Radicale, il punto di Gianni Colascione, cioè l'intervento del nostro direttore, appunto Gianni Colascione, che ci interterrà con le sue opinioni riguardo l'argomento della settimana. Io favorisco l'ingresso in studio di Gianni. Ciao Gianni, come stai? Ciao a tutti quanti. Glorioso direttore di TV Radicale, che nel corso del decimo congresso di Chianciano si è spesso veramente con tantissime interviste a tanti esponenti radicali di primo piano e anche non di primo piano, è sempre stato presente e soprattutto ti sei cuccato anche Marco Pannella, una bellissima intervista a Marco Pannella, ma è bene non parlare solo dell'intervista con Marco Pannella perché ce ne sono tante altre molto belle, quella a Spadaccia, quella a Nicotra e gli altri compagni che sono stati intervistati. Come va Gianni allora? Come è stata questa esperienza congressuale? Molto bene, se vogliamo fare un'introduzione sul congresso, io ritengo che l'esperienza, la presenza, la trasferta, in realtà una trasferta di TV Radicale sia stata profigua per tutti coloro che ci seguono e per tutti coloro che poi lo vedranno sul web perché le interviste che peraltro sono state parecchie, io credo che come persone intervistate sia singolarmente che non abbiamo raggiunto più o meno un numero più o meno intorno a un terzo del congresso, quindi insomma sono state parecchie e come testimonianze importanti, molte persone ci hanno riscoperto, ci hanno ritrovato, altre persone ci hanno scoperto lì per lì e hanno gradito anche il tipo di intervista abbastanza informale come per esempio è successo per Giuseppe Di Leo che non aveva ben capito che noi fossimo soltanto su web e così via. La pubblicazione ovviamente siccome è una mole abbastanza soprattutto per quanto riguarda i minutaggi, non sono interviste molto rapide, quelle che sono state pubblicate sono le più rapide, ovviamente le altre in coda sono quelle più lunghe, ci vorrà un pochino di tempo per pubblicarle, io spero che da tutti coloro che ci seguono verranno poi dei suggerimenti anche quando le vedranno, così anche per, dobbiamo fare un'opera di divulgazione, diciamo più ampia possibile. Ecco, dopo l'esperienza del nono congresso di radicali italiani, anche quella di queste del 2010, 2011, TV Radicale per il secondo anno consecutivo al congresso di radicali italiani, ma Gianni adesso mi ritraggo, quindi da questa mia presenza ingombrante ti lascio la linea perché qui comincia il punto di Gianni Codacione, la linea a te Gianni. Grazie, allora io ovviamente come era facilmente pensabile avevo in mente di iniziare oggi ovviamente parlando di, chiaramente parlandovi del congresso perché questa esperienza è stata importante, veramente storica per me è anche una vicenda umana, però purtroppo come sempre io prendo appunto spunto per questo piccolo editoriale, questo piccolo spazio dalla cronaca e non ho potuto in qualche modo soffermarmi a pensare un pochino e poi a riflettere che effettivamente la questione era così grande da secondo me meritare una riflessione da portare in questo editoriale per quanto riguarda il disastro che sta avvenendo in questi giorni in Liguria, a Genova, ma sono poi notizie che sono in evoluzione molto preoccupanti che riguardano il Po, che riguardano Napoli e hanno riguardato in passato la Basilica, la Sicilia e sto parlando del dissesto idrogeologico, ci sono già sei morti in queste ultime 24 ore che sono stati contati, poi ci sono dei dispersi a Genova, è un dissesto idrogeologico diffuso su tutto il territorio in modo assolutamente trasversale, verticale perché l'Italia insomma si stende dal nord a sud, ma trasversale per quanto riguarda poi alla fine tutte le persone che vengono colpite da un punto di vista anche dell'appartenenza a vari ceti, cioè sono delle intere città che sono cresciute, che si sono stratificate storicamente in situazioni veramente pericolose, è anche vero che probabilmente le evoluzioni climatiche oggi ci portano ad apprezzare a far conoscere dei fenomeni temporaleschi, ma insomma di tipo quasi tropicale, quindi delle riversamenti di acqua e di pioggia in tempi non lunghi ma in una mole che non si riesce a smaltire che a sentire gli esperti sono per lo meno insolite e quindi ci sta un margine di incapacità, di impreparazione a poter far fronte a questo tipo di eventi, ma non possiamo evitare di guardarci un attimo alle spalle e vedere che le non politiche di pianificazione del territorio che hanno realizzato il vero e proprio assassino del nostro territorio sono una prassi che si è percorsa da decenni, una prassi che praticamente è figlia della convinzione che il territorio come tutto ciò che non è di proprietà personale in Italia sia o da rubare, quindi da appropriarsene a fini personali o da distruggere, questa è una convinzione perché è veramente singolare che alcune di queste zone, di queste costruzioni siano anche costruzioni che non sono state costruite, non sono costruzioni abusive, sono anche costruzioni che sono state costruite con concessioni edilizie e quindi in teoria praticamente con una pianificazione anche del territorio. A mio parere l'assenza di un sentimento comunitario di noi italiani non ha mai dato la percezione che costruire male senza rispetto di certe regole sia un'offesa alla collettività intera e spesso anche alla collettività che insisterà su questo nostro paese nelle generazioni future, perché ovviamente la vita di un edificio va oltre la vita biologica dei singoli e quindi praticamente ci sono delle generazioni che comunque sia prima o poi sconteranno questa sceleratezza. Dopo la conta dei morti ovviamente dobbiamo vedere che prospettive noi abbiamo, cioè come cercare di invertire e se riusciamo capaci di invertire questa rotta. Io sinceramente da quello che ho sentito questi giorni e spero ovviamente di potermi contraddire di poterlo fare anche a breve perché bisogna agire quanto prima, io non sono ottimista perché vedo che su questi morti, su questi disastri, su questo martirio umano che è il martirio che Pannella ci ha sempre insegnato viene al seguito della strage del diritto, seguono poi le strage di vite ed è così, a seguito il punto di questo martirio comincia la strumentalizzazione politica che è in piena attività. Questi morti vengono praticamente rilanciati, rimpallati con delle responsabilità che si vogliono attribuire, l'opposizione ovviamente lo fa cavallo di battaglia, anzi direi che forse da un punto di vista politico serve proprio per rafforzare una certa credibilità agli occhi di qualcuno e quindi recriminare contro il governo, che ovviamente in modo scelerato ha praticato anch'esso una politica dei condoni edilizi, quindi una politica scelerata per quanto riguarda la pianificazione del territorio e incentivante proprio le violazioni come tutti quanti i condoni e anche per esempio nel Lazio le leggi regionali, il piano case cosiddetto, con le autorizzazioni a violare le regole sui vincoli archeologici e paesaggistici che sono state poi anche impugnate dai stessi membri del governo. Insomma è una riflessione, questa qui appunto questo rimpallo di responsabilità estremamente riduttiva, è una riflessione che non può praticamente prescindere dal fatto che le amministrazioni locali che sono le prime responsabili di questa devastazione per azioni e ma anche per omissioni di controlli, sono ricoperte da esponenti e sono state impersonate da esponenti e da leader nell'arco di 50 anni di tutte le forze politiche e quindi dare una concessione magari per voto di scambio, insomma sono delle prassi che ogni tanto escono fuori, magari anche spesso per episodi dove ci sono coinvolgimenti economici molto grandi, quindi interi quartieri, interi villaggi turistici per dire, ma non magari le singole case, i singoli palazzi e costruire in questo modo è stata in qualche modo una frutto di un'attività o di un'omissione anche di amministrazioni che fanno parte di quella che oggi possiamo chiamare opposizione, insomma, che può opposizione e anche sarebbe dargli, secondo me, una dignità che non ha. Quindi praticamente la riflessione che leggo sui giornali in questi giorni si riduce a una recriminazione politica, cioè una strumentalizzazione di queste morti che è veramente miserrima e questa è una dimostrazione purtroppo che noi italiani non impariamo nulla neanche da questi errori drammatici, che purtroppo i personalismi e i corporativismi, le faziosità politiche, sono sempre dietro l'angolo, qualsiasi cosa appunto serve ad alimentare questo tipo di personalismo, corporativismo, faziosità, tutto tranne che scegliere di adottare un vero nuovo comportamento nel rispetto delle regole di comune convivenza, perché ripeto, costruire in un certo modo e pianificare sono regole di comune convivenza civile che in qualche modo tutti quanti ci siamo dati e che tutti nel tempo abbiamo violato, sia coloro che in qualche modo hanno dato le concessioni, sia chi ha costruito, ma in definitiva anche chi ha abitato in condizioni, in costruzioni che non avevano certi requisiti, a volte anche sfidando la sorte. Io mi chiedo dove stavano costoro soprattutto questi personaggi dell'opposizione quando Pannella, non neanche tantissimo tempo fa, auspicava lo sviluppo della presenza, l'incremento della presenza dei geologi a livello comunale per pianificare lo sviluppo dei centri urbani, quando gridava in modo molto allarmato contro la speculazione edilizia sul Vesuvio, che sarà un altro appuntamento che non potrà che essere esiziale, drammatico e siamo qui in attesa che si consumi l'ennesimo sacrificio. Tutta l'Italia è in questa condizione. Oggi Genova, la Liguria, Napoli, dobbiamo capirlo, siamo tutti noi e c'è un filo conduttore che collega tutto. Buona fortuna a tutti noi e all'Italia. Io per quanto mi riguarda ho concluso, vi do appuntamento alle trasmissioni che seguiranno su TV Radicale oggi e vorrei anche fare un piccolo minispot sul congresso del Partito Radicale Trasnazionale che si terrà a Roma dall'8 all'11 dicembre a Roma e penso che sul sito poi metteremo un avviso apposito. Grazie ancora, la linea a te Roberto. Grazie Gianni, grazie della linea. Sul nostro sito il sempre pronto Donato Volpicella ha già provveduto a mettere un banner con un link a tutte le informazioni sia logistiche che politiche necessarie per partecipare al congresso del Partito Radicale non Violento Trasnazionale e Traspartito. Bene Gianni, io ti ringrazio per la tua rubrica, come sempre è molto interessante, torniamo nello studio di Lecce.